Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con la cultura in città, vediamo che cosa ci riserva la serata, cominciamo con un'opera lirica, si tratta del Luisa Miller di Giuseppe Verdi, melodramma tragico Il Tre Atti, sul libretto di Salvatore Cammarano dal dramma Cabale Unlib di Friedrich Schiller al Teatro Reggio alle ore 21. Meglio dirselo il nuovo libro di Daria Colombo, l'autrice lo presenta quest'oggi alle ore 18 alla libreria Feltrinelli Libri e Musica, quando riceve la drammatica telefonata che le apre gli occhi sulla malattia della madre, Lara non immagina che sarà proprio questa l'occasione imprevista per rimettere in gioco se stessa e quei pezzi di vita che sembravano non combaciare più. Continuiamo con un appuntamento cinematografico al Cinema Massimo in sala 3 alle ore 20 e 30, regia di Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin del 1972, un film della versione originale sottotitolato in italiano, il titolo è Crepa padrone, va tutto bene. Finiamo con Cicatrici, lieve a Mesturino e domenica a Modeo, le relazioni fra cicatrici interiori ed esteriori, uno spettacolo teatrale, va in scena al Teatro Erba, quest'oggi alle ore 21. Per quest'oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle ore 17 circa come sempre, io ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!